Il Capo e la sua santità hanno il suo spello personale, un osso, e quindi siamo serenamente appoggiati, ed è tutto che ci sia l'ordine di sguardo, se il primo degli attori ha vinto unilista, noi molto più umilmente, siamo tutti i amici, ed è il corso. Forse il seguito il professor Petri Cani potrà raccontare la storia di un tema, visto che in una delle mostre è il tema di Papa, lo tema dell'attuale Papa non è stato fatto a loro, è stato detto che la storia di un'ottuale Papa, lo tema del suo spello, con i cartelli di un'ottuale Papa, un'ottuale Papa, un'ottuale Papa, lo tema del suo spello, ma che si vede i cartelli? Dunque, comunque le analogie professionistiche non sono poche, perché in questo caso noi nella mostra possiamo vedere, per esempio, l'esemplare di orso terrestre, ma scoprerete che nella mostra esiste anche un orso eccellente.